Dopo gli eventi della scorsa settimana legati al coronavirus ad Agropoli, la città ha visto il sopravvento del panico generale su tutto, infatti al propagarsi delle voci sul presunto caso di contagio del cinquantenne agropolese che era stato a Venezia nel periodo di San Valentino e che dopo essere tornato ad Agropoli aveva accusato sintomi legati al virus cinese e per questo si era recato al San Luca di Vallo della Lucania dove è stato sottoposto all'isolamento, si è scatenata l'agonia mediatica nei confronti della sua famiglia e a quella della fidanzata, la famiglia Bilotti, ben nota in città. Queste persone, totalmente strane ai fatti e senza nessuna colpa, in un brevissimo lasso di tempo si sono trovate ad essere attaccate e discriminate da vari cittadini agrupolesi. In risposta ai vergognosi commenti che si sono scagliati contro di loro è intervenuta la fidanzata dell'uomo, Roberta Bilotti. Credo fermamente che alcune persone di Agropoli abbiano contribuito a fermentare notizie false, inutili e con una cattiveria immensa senza avere alcun fondo di verità. Umanamente parlando siete delle bestie, qui ci sono di mezzo due famiglie per bene, in vista, professionisti, bambini innocenti, attività aperte al pubblico, ma vi rendete conto, parlate senza avere la certezza di nulla, divulgate il panico e la paura senza sapere l'esito reale del test. Queste le parole della donna che ha anche smentito le false voci secondo le quali il loro ritorno ad Agropoli, da Venezia, è datato circa una settimana fa, quando Venezia era già una città ad alto rischio, ma in realtà è datato a più di due settimane fa, quando l'allarme coronavirus non era così grande. Poi fa sapere la donna che lei e il suo fidanzato si sono recati in Veneto con l'automobile e non in treno e di aver agito nella massima sicurezza e responsabilità, avendo anche avvisato il comando dei vigili di Agropoli del loro ritorno. Il cinquantenne fidanzato di Roberta Bilotti è risultato negativo ai test per il coronavirus e sta bene. Al momento, per precauzione, si trova ancora al San Luca di Vallo della Lucania e dovrebbe essere predisposto all'uscita dal nosocomio vallese nei prossimi giorni. Intanto arrivano notizie confortanti per la 26enne di Montano Antilia, che è risultata positiva al virus. Si trova attualmente al Cotugno di Napoli e le sue condizioni sono in miglioramento giorno dopo giorno. Ottimo